DIMMI DOV'È LA BOMBA 10 SECONDI O SEI MORTO Interessante Sono l'unico a sapere dove l'ha testata nucleare Beh, allora in questo caso Ti consiglio di cominciare a Oh cazzo Oh mio Dio, cosa... Perché l'hai fatto? Non l'ho fatto apposta, c'è tipo una tonnellata di polline qui Ho smesso di insegnare per unirmi alla CIA E diventare una spia incredibile Ma sono rimasta la stessa persona noiosa Perché tu non rischi mai? Sento sempre la voce di mia madre Chi si loda si imbroda, chi si accontenta gode Non è tutto oro quello che luccica Magnifica Rinuncia ai tuoi sogni, Susan Me lo scriveva nel cestino del pranzo Dalle intercettazioni risulta che Raina Bojanoff sappia dove sia la bomba Lei conosce l'identità di tutti i nostri agenti Come cazzo ha fatto quel pezzo di figa a scoprire i nostri nomi? Non lo sappiamo Eviterei di usare quella parola Ford Ma informati, figa ha un significato diverso in Inghilterra Qui vuole dire vagina Qualcuno deve trovare la bomba senza essere intercettato Ma non può essere uno di voi Ci serve qualcuno di invisibile Vado io? Scusi, non abbiamo chiamato il bar Dico sul serio Posso farlo io? Ti diamo una nuova identità Tu non sarai più Susan Cooper Sei Penny Morgan Divorziata, casalinga, dall'Iowa Rafforza l'autostima Sei pronta per l'azione? Leva queste mani Non devi entrare in contatto con nessuno dei bersagli Un brindisi Anche se non vedi più in là del tuo naso Sarai sempre un'aquila per me Che brindisi cretino Sei deliziosa Ok Sarò il tuo peggior incubo Ti distruggerò Che cazzo sei tu? Sono quella che ti taglierà il pisello E te lo incollerà sulla fronte Così sembrerai un unicorno col pisello moscio Ecco chi cazzo sono, capito? Jennifer Lawrence e Francis Lawrence Formeranno un nuovo team Dopo la fortunata saga di Hunger Games Per girare The Dive Film che racconta della vera storia di Francisco Pippin Ferreras E di sua moglie Audrey Mestre Interpretata appunto da J.Lo Insieme la coppia riuscì a battere alcuni record di apnea Fino alla tragica morte della Mestre Durante il tentativo di battere un primato mondiale James Cameron produrrà la pellicola Continua invece la ricerca dell'attore Che interpreterà Francisco Presto nuovi aggiornamenti Quindi continuate a seguirci Ciao Ciao